La fuga rocambolesca dall'Ucraina con la paura di non farcela. Mosca, Uzbekistan e le settimane che passavano. Poi il via libera per l'Italia e le braccia aperte dell'Università di Siena. Per Natalia Toshkett da settembre è iniziata una nuova vita. La mia città era occupata dai russi e non avevamo niente. Non avevamo elettricità, non avevamo connessione, non avevo la possibilità di lavorare, di studiare. Perciò ho deciso di provare a inviare il mio CV all'Università a Siena e qui posso fare la mia ricerca e insegnare un po'. Dramma fatto di missili, soprusi e giornate da reclusi dentro i bunker. Kharkiv, la sua città, è stata a lunga una delle più bersagliate dall'esercito russo. Per Siena la vicenda di Natalia non è isolata. Dall'inizio del conflitto l'Ateneo ha supportato gli studios ucraini, ospitandone alcuni. Abbiamo già avuto un'altra professoressa che veniva dall'Ucraina, insegna ad Arezzo attualmente anche lingua russa. Per fortuna abbiamo avuto la possibilità di operare questo gesto di accoglienza. Una goccia nel mare, ma pur sempre qualcosa almeno di simbolicamente significativo.